E a Rovigo sarà Expo Rovigo 2019, un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese, dal blog, anzi dal gruppo Facebook, il blog di Adria Polesine 20 Veneto Delta del Po, dove potete lasciare, condividere le vostre locandine, mandarcele anche come messaggio privato, c'è anche la pagina Facebook omonima che è il blog di Adria Polesine. Allora, eccoci qua, sta arrivando 19, 20, 21, 22 ottobre 2019, Fiera Campionaria Expo Rovigo, con ingresso gratuito all'area espositiva del Celser, in via Porta Adige, vi lascio sul post di questo video il link per andare a vedere la locandina, anche con tutti i riferimenti, se magari qualcuno volesse qualche informazione di più. Comunque vi ricordo, 19, 20, 21, 22 ottobre Expo Rovigo, la Fiera Campionaria presso il Celser. Grazie a tutti per l'ascolto da parte di Andrea Bolognese, noi ci sentiamo qua ogni tanto che vengo a condividere questi video per i vostri gruppi, comunque se volete condividere le vostre locandine nel nostro gruppo c'è il blog di Adria Polesine 20 Veneto Delta del Po, c'è anche la pagina Facebook. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao! Grazie a tutti!